L'Italia è il paese europeo più ricco di biodiversità. È un grande patrimonio che la sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale tutela salvaguardando, valorizzando, caratterizzando e migliorando geneticamente la biodiversità animale di interesse zootecnico. Informati su www.psrn.it Programma di Sviluppo Rurale Nazionale Seminiamo il futuro delle zone rurali www.psrn.it